Quando la pioggia e il maltempo minacciano i Luca Comics, solo un eroe può affrontare le intemperie e uscirne indenne. Vidar, le nuove avventure! Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Mastercae. Questo è lo speciale per i Luca Comics 2019 e come tutti gli anni vi porterò con me nel viaggio che ho fatto nei primi tre giorni della fiera. Anche quest'anno io sono tornato a casa il venerdì sera, adesso che è sabato sto girando e montando il video e se tutto va bene voi lo vedrete domani. Sempre che i tempi di caricamento di YouTube siano favorevoli, quindi incrociate le dita. Sì, è un lavoraccio ma mi fa piacere farlo perché so che un sacco di gente non è potuta andare ai Luca Comics e almeno gli do la possibilità di buttare un occhio su quello che si sono persi. Sì, sto facendo passare come un'opera caritatevole il fatto che io li faccia rosicchiare, sono una cattiva persona. Nessun grosso cambiamento quest'anno, o almeno nessun grosso cambiamento che io abbia potuto notare, hanno migliorato in qualche modo la visibilità, anche perché ogni anno la manifestazione aumenta i suoi numeri e quest'anno c'erano ancora più partecipanti, quindi in alcuni punti le strade sono state deviate, da alcuni punti non si poteva passare. Per chi è abituato a avere dei percorsi, perché oramai ci va da dieci anni come faccio io, la cosa è stata un attimo traumatica, però in realtà meglio così, perché già c'è Ressa, se non ci fosse il controllo della viabilità sarebbe peggio. Però non perdiamo tempo e ripercorriamo un po' l'età per la strada che ho fatto. Quest'anno ho ingresso da Porta Elisa, abbiamo preso i biglietti nella biglietteria, quella vicino al Japan Palace, e poi ci siamo fiondati direttamente allo Stand Games, perché era ancora presto, erano le 9 del mattino. Abbiamo fatto i biglietti nella e 9, saremmo arrivati lì per le 10, era comunque già pieno e cominciava già ad andare via la roba velocemente. Quest'anno tra l'altro tappa obbligata allo Stand di Giochi Uniti, perché è uscito Avventure Occulte, l'ultimo dei manuali in italiano di Pathfinder. Adesso voglia dire Pathfinder 1, perché in realtà è già uscito il Pathfinder 2, che sarebbe il successore spirituale del gioco. Finalmente, tra l'altro, è uscito anche fuori tempo massimo, perché il gioco ormai tecnicamente avrebbe dovuto essere esaurito, anche se continua a essere giocato prima che Pathfinder 2 lo spodesti. Ci vorranno anni, se succederà. C'è molta gente che continua a giocare ancora oggi alla 3.5, senza contare tutto il movimento old school, quindi non è affatto scontato. Comunque, è uscito adesso, quando in America era uscito praticamente subito dopo, come manuale gemello di Avventure Occulte, che è uscito nel 2016, ci hanno messo tre anni, ma per fortuna è arrivato, mettiamola così. Come tutta la serie di Pathfinder, il manuale è di qualità eccezionale, costa una cinquantina di euro più che meritati. In realtà, nonostante il nome, non è un manuale di per sé horror. Diciamo che questo è uno di quei manuali per il master. Contiene delle varianti, sia per le regole che per i mostri, più che altro per mettere le avventure più sul gotico, sul grottesco, mettiamola così. Per adesso ho potuto dargli solo una sfogliata veloce, però da quello che ho visto, più che introdurre nuove cose per i player, principalmente sono consigli per il master per rendere più tetro il D20 System, che di per sé, essendo pensato per il fantasy eroico, non regge bene quando viene usato in salsa horror, se non ci sono delle adeguate modifiche. In questo vengono introdotti fondamentalmente i punti follia, i punti sanità mentale di The Call of Tulu, o se volete metterla, sanità mentale e corruzione fisica alla Dark Eresi, una sorta di mischione in cui dentro c'è anche un pizzico di Ravenloft che non guasta mai. Ovviamente non si può uscire dallo stand dei games avendo speso solo 50 euro, quindi mi sono preso anche il fondamentale atlante del mondo del trono di spade, che è utilissimo perché devo ambientare una campagna nel mondo del trono di spade. Prima o poi, entro la fine del secolo, però mi serviva davvero. Anche questo, rispetto al costo, vale tantissimo. Non è di per sé un libro vero e proprio, ma è un raccoglitore con all'interno vari poster. Qua vi faccio vedere proprio l'unboxing, perché l'ho aperto stamattina e ho fatto che farlo sotto la telecamera. Ognuno dei poster rappresenta una delle mappe, una delle aree geografiche, alcune più grandi, alcune più piccole, ma vanno a fare un livello di dettaglio sul mondo di Planetos veramente approfondito. Sicuramente è un oggetto collezionistico, però sono quelle cose belle che almeno a me piace avere. Ovviamente non ero il suo a dover fare acquisti perché non sono andato da solo. Quest'anno Vidar, uno dei miei giocatori, quello che vedete nelle scenette, è venuto con noi perché doveva rifarsi la sua collezione di dadi, cosa che tra l'altro è stata più complicata di quello che ci si aspettava. Mancano quelli da ossa, non è bro, se quelli che ci stanno fanno pure schifo. Lo compatirei di più se non mi avesse fatto perdere due ore di vita per guardare ogni singola bancarella del Japan Palace, ma mettiamola così, è stato bilanciato dal fatto che io quest'anno ho cominciato a girare a caso perché c'erano un sacco di persone che dovevo incontrare. Ovviamente si parla sempre del gota del gioco di ruolo italiano. E da Luca, per mantenere alto il livello culturale, la locanda dell'orso gufo. La tara dell'orso gufo. Cambia nome oramai. Sì, Roberto Rossi della tara dell'orso gufo aveva promesso che mi avrebbe offerto da bere e lo ha fatto, diventando così il mio miglior amico nel mondo fino a quando qualcun altro non mi offreva da bere. Ok, questa è praticamente in tempo reale. Susack, di una stanza tutta per me, mi ha appena invitato a un torneo di D&D Scatola Rossa. Sto lavorando, Susack, mi dispiace. Il secondo giorno l'abbiamo dedicato a girare per le bancarelle, fare tutto il giro delle mura, vedere gli stand, le musiche, c'era come sempre lo stand di Legione, di Star Wars, che merita passare a vederli. Non sono riuscito a far picchiare Vidar da un Cavaliere Jedi per quest'anno. Anche giovedì pomeriggio ho passato allo stand Games, sempre per girare e vedere le nuove anteprime. Io volevo assolutamente assistere alla conferenza con gli spiegatori di The Expense, che per favore non fare la fine di Firefly, ma al di là di quello è una di quelle occasioni che non ti capita e sono felice di esserci stato. Sono proseguite anche le avventure di Vidar con la sua scatola misteriosa. Il primo misterioso, esatto. Perché ne ho presi due, perché costavano 10 euro l'uno. Perché generalmente tutti gli altri tracobetti che aveva sulla bancarella mandavano sopra i 30 e non mi sembrava niente. Adesso c'era già uno di questi in esposizione e l'unica cosa che ho visto che potevi fare era questo. Poi del resto non sono riuscito a capire come si dematerializza tutta... Beh, per quel costo mi sembra già abbastanza. Non ammetto né smentisco che la scatola misteriosa sia stata rotta dopo essere stata aperta. Essere ritornato in uno stand games però è stato anche un colpo di fortuna, perché io non lo sapevo, ma abbiamo trovato che distribuivano a gratis i quick start di Uno sguardo nel buio. Uno sguardo nel buio è un gioco classico, io l'ho provato ma più di dieci anni fa. Usa sempre il dado da 20 ma non è un D20 system, è un sistema a riserva frazionaria. È un po' macchinoso all'inizio ma poi una volta che ci prendi la mano è abbastanza facile. È un attimo più spettacolare rispetto a un D&D classico, però la trama invece è proprio molto fantasy, fantasy della signora degli anelli, mettiamola così. E proprio quando vi immaginate il gioco in ruolo fantasy, in realtà state pensando a uno sguardo nel buio. Ringrazio i ragazzi che lo stavano distribuendo perché me lo sarei perso se non mi avessero fermato. Purtroppo sia mercoledì che giovedì giornate veramente brutte, giovedì ha praticamente piovuto tutto il giorno, eravamo in un mare d'acqua, non ha schiarito fino a venerdì mattina, ma venerdì mattina sono riuscito a fare pochissimo, riusciti a vedere qualche cosplay, comprato gli ultimi ricordini. Mio padre non è riuscito a prendersi l'edizione speciale ITEX di quest'anno e sta ancora rosicando adesso. A quanto pare le avevano finite, non so quante ne avessero vendute, ma parecchie credo. Però mentre Vidar scrutava con aria di superiorità la folla in arrivo, sono riuscito a dedicare un paio d'ore a incontrare tutta la gente che ha detto incontriamoci e che non ero riuscito a incontrare poi durante la giornata. C'è da dire che ho scoperto che il pubblico del Master K è più eterogeneo sia per età che per atteggiamento di quello che mi aspettavo. Alcuni di voi sono decisamente esuberanti, però devo dire che mi ha fatto veramente piacere incontrarvi e ringrazio tutti quelli che sono venuti per il supporto, perché sembra poco, ma incontrare poi di persona la gente e parlarci fa piacere. Io sono sparto sempre al presupposto di quello che faccio, poi non se lo vede nessuno e quando scopro che invece c'è della gente che lo apprezza mi inorgoglisco, mettiamola così. Mi dispiace per quelli che non sono riusciti a passare, però venerdì mattina il traffico era totalmente bloccato, quindi so che alcuni di voi che volevano arrivare poi erano ancora bloccati nel traffico quando io me ne stavo già andando. Mi dispiace signori, sarà per l'anno prossimo, sarà per qualche altro. Se quest'anno vedo riuscire a liberarmi un po' e magari organizzare, partecipare a qualcos'altro, magari ci incontriamo lì. Per il resto, per me i lucca per quest'anno sono finiti, sabato e domenica non ho potuto fermarmi, ma personalmente sabato e domenica oramai c'è fin troppa gente e non si riesce a girare, non si riesce neanche a godersi la manifestazione quando c'è così tanta ressa. Però diciamo che per questo video è tutto, dalla settimana prossima riprende la programmazione regolare. Fatemi sapere se voi siete andati a lucca. Quelli di voi che erano a lucca con cui ci siamo incontrati, che hanno fatto foto, taggatemi perché per adesso qualcuno l'ha fatto ma gli altri no. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate dei comics, qual è la vostra esperienza, se ci siete andati, cosa avete preso. Io sono il Master Kae, per quest'anno lo speciale dei comics termina qui e noi ci vediamo nel prossimo video.